Da 15 anni lavoro gratuitamente per il Movimento 5 Stelle e ho sviluppato il Rousseau in modo completamente volontario. Quindi quel contributo deve rimanere? Adesso è utile per lo sviluppo della piattaforma. Casaleggio, buonasera. Molti parlamentari 5 Stelle dicono che il controllo della piattaforma Rousseau deve passare ai parlamentari. Non ne ho ancora sentito parlare, evidentemente hanno parlato a voi prima di me. C'è un documento dei senatori che chiede questo, alcuni sedessi e altri senatori. Ah, quello di documento, ma non indicava questa cosa? Sì, controllo della piattaforma parlamentare. Non l'ho letto io. Non l'ha letto bene. Beh, glielo diciamo adesso e cosa risponde? Attenzione. Che Rousseau è sicuramente la voce degli iscritti e quindi questo deve continuare a essere. Non c'è bisogno di cambiamenti. C'è sempre bisogno di cambiamenti. Un attimo, Casaleggio, non c'è bisogno di... Noi, tutto forza. È disposto a rinunciare a una parte dei fondi dei 300 euro che parlamentari versano a Rousseau? Anche questo si chiede a alcuni parlamentari. Ma io non ricevo nessun fondo. Rousseau, la... Rousseau, Rousseau. Sono stipendio. L'associazione. Da 15 anni lavoro gratuitamente per il Movimento 5 Stelle e ho sviluppato, lo so, in modo completamente volontario. Quindi quel contributo deve rimanere? Ma adesso è utile per lo sviluppo della piattaforma. Agli stati generali ci sarà lei? Adesso dovremmo definire quando sarà. Ma lei ci sarà? Verrà? Grazie.